L'intervento in parte è stato facendo da Alessandra Anna, nel senso che quando tu hai citato l'aeroporto in Povei, io avevo piaciuto moltissimo, ti dico che come dice Alessandra Anna, è un aeroporto che non è da scuole, noi abbiamo una scuola, non si è insegnata, quindi ovviamente abbiamo avuto la scuola di scuola, prima abbiamo avuto in mente la scuola dei ragazzi e non la scuola degli allievi, quindi c'è una scuola, c'è un centro abitato, c'è un patrimonio culturale, come è stato detto finora e Antonio anche ha ribadito, è l'identità di Latina, ora io sono messa, ovvero insegnare lingue, mi figura, per me il viaggiare viene prima di tutto, però tu sei da poco qua nel tuo territorio, bisogna anche valorizzare il nostro territorio, il nostro territorio offre quello, cioè chi vuole invece vedere il Colosseo, vuole vedere un'altra cosa, è a terra fiumicino tranquillamente e si fa la strada che deve fare, cioè chi viene qua, come è stato detto prima di Antonio, è un turista settoriale, un turista con l'attima iuscola, cioè che sceglie di vedere determinati posti piuttosto che degli altri, quindi io direi che è su quello che per lo meno io la penso così, bisogna abbattere sull'identità del territorio, come si diceva prima, si parte dal territorio, non è che si parte dall'esigenza dello straniero o di chi viene da fuori di atterrare il più vicino possibile a Terracina o a San Paolo, insomma, se poi volendo andare a visitare quei posti si prende altrimenti, anche perché è stato anche detto prima che già la stazione per il territorio di Latina c'ha dei problemi, non è che viaggiamo quasi tutti i giorni, c'è che rendiamo conto, insomma, quindi andare a intasare anche quell'altro tipo di traffico e causare altri problemi crea altri problemi, insomma, detto questo, detto tutto. Ma no, mi chiamo Mario Lorenzo, faccio parte del tavolo del turismo e all'interno del tavolo del turismo, Mario con Angelo Valerio, abbiamo condiviso, che poi abbiamo postificato in un grafico, un percorso degli Ecomusei, e della condivisione, questo si può provare anche sui nostri lavori della Comuseo, che peraltro sono stata appesa, ma anche lì l'hanno già costituito proprio da Ecomuseo. Per cui, secondo me, le scelte su un progetto del genere innanzitutto devono essere condivise dalla popolazione, perché tutto ciò che non è condiviso dalla popolazione, quindi attraverso consultazioni, fa la fine di esempio che ne abbiamo tantissimi in Italia, dove troviamo sperperi, dove troviamo ritardi, no? E quindi, in prima stanza, è la popolazione che deve condividere questo tipo di progetti. Io, da alcune notizie che avevo letto, che mi sono informato, il messaggero, il segretario della difesa russi, ha scritto che salveranno il Comani con i taggo, fascia orari di giorno militare, scuola piloti, con allungamento della vista, che non è sufficiente, i tuoi colleghi militari dicono che già attualmente hanno difficoltà con la lunghezza attuale. Questo lo ricordano i giornalisti, io non sono un esperto, quello che leggo mi documento, no? E quindi, con i cargo saperebbero queste, no? Poi altri interventi, dicevano, parlavano sempre di un aeroporto che era di sussidio a Roma. Io, sinceramente, avere qua i problemi, come per le discariche, come per tante altre soluzioni, situazioni, per far beneficiare Roma, assolutamente, cioè, non vedo nessun ritorno. Tant'è che, poi parlando con operatori del settore, con agenzie turistiche, noi abbiamo una situazione dove per arrivare per la Cina, tu devi trasbordare, no? Per un masco che è lì, da due anni, i turisti che vengono all'estero, quindi sono fatti aeroporto, sono fatti, no? Devono trasbordare dal treno, sul pull, ma siamo a queste condizioni qua. Quindi immaginiamoci ora che siamo all'anno zero, siamo all'anno zero qua, con una disoccupazione che si chiudeva il 40%, con fabbriche che chiudono, e quindi non stiamo parlando di orio al serio, perché orio al serio in un contesto industriale e in Europa, orio al serio, fai conto che è in Europa, no? Quindi hai una presenza di imprese lì, come dire, percentualmente altista, quindi sono paragoni che non reggono assolutamente, insomma, con la nostra realtà. Quindi, diciamo, in queste condizioni qui, attualmente io in un aeroporto proprio, cioè non ce lo vedo proprio, perché abbiamo una montina che è proprio un disastro. L'esempio che facevete sulle migliarie, chiude la montina, morti che avvengono così, una strage che avviene sotto gli occhi di tutti, assolutamente. La nostra tipicità è il territorio, il territorio è quello che ci differenzia dagli altri, no? Il problema è che la nostra... Ci differenzia. Sì, però... 42, 42... Sì, 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 42 turisti che si marcano la nostra base dell'Infa quando noi abbiamo una diversificazione su un turismo che è fatto di cicloturismo, un turismo diffuso, un turismo agricolo, ci sarebbero qui almeno 10 tipi di turismo di freddo. Noi abbiamo il petrolio sotto e non sappiamo valorizzarlo, spesso inseguiamo altre, diciamo, altri chimere quando potremmo invece, diciamo, trarre, come dire, orgoglio per i nostri figli che non devono andare poi fuori all'estero. E lì c'è veramente indurta, no? Nel turismo diffuso perché poi comprende l'informatica, perché noi manchiamo di una promozione all'estero, assolutamente siamo all'anno zero anche nella promozione con enti come l'Emit, che servono praticamente a nulla se non sono ancora, ma chi ne mangia soldi, voglio dire, insomma, è una cosa che c'è. Quindi c'è tantissimo lavoro da fare su questi aspetti qui e se qualcuno, diciamo, vuole anche interessarsi del tavolo del turismo che stanno facendo noi, insomma, penso che sia anche, come dire, benibico e che raccendo, che può dare il contributo. Nella fondazione che devi, vi sono rappresentati, vvf, dei verdi... No, 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 non di tutti, di tutti i frequenti, le associazioni mi noi ho raccordato. L'IQ è... IW5, i VVF italiani... grazie allora semplicemente io metto in discussione l'approccio di Fabio che secondo me è il tuo vice invece non deve essere così perché ogni territorio ha una vocazione è come dire a una persona che io ti amo te la ti voglio cambiare quindi la tua città ha un progetto di una vocazione se tu ci ritorni è perché accetti la vocazione di un territorio non perché vuoi stravolgere in funzione dei tuoi interessi perché secondo me l'uomo di questo approccio ha già fatto danni noi lo riconosciamo come un ecosistema lo riconosciamo come qualcosa che modifichiamo a nostro piacimento ma non funziona così effettivamente il nostro territorio come hanno detto un po' di tutti diventerebbe la società di Roma perché noi non abbiamo le stesse potenzialità di attrattivi di Roma quindi questo territorio dovrebbe semplicemente per arrivare a Roma quindi a Latina si materebbe un po' di turismo a questo punto il turismo dovrebbe avere sotto un altro aspetto non sotto un gradiente a livello internazionale ma su un gradiente locale quando Roma si sarà mangiata a fare campagne al giorno perché è quello che sta facendo Roma continua a crescere i romani dove andranno in vacanza dove andranno a fare campagne e poi cerchiamo di conservare la nostra perché abbiamo questo è il nostro aspetto il nostro valore aggiunto non ce lo possiamo bruciare pensando di poter fare i grandi internazionali secondo me dicendo che si voglia aggiungendo le nostre bacchini tecniche quando si crea un centro così diciamo che lo spostamento di uomini e cose si può modellizzare semplicemente come i fusti dell'acqua e io creo un punto di accentramento una specie di buco in cui devono arrivare nuovi flussi di persone e di cose devono viaggiare e li devono incanalare se i canali che noi abbiamo sono già stretti o sono pochi e non bastano per la popolazione locale ma come pensiamo di poterli gestire? tu dici l'abbè saranno le infrastrutture ma le infrastrutture saranno a costo zero su chi ricadrà il costo per queste infrastrutture? sicuramente su chi ci viaggerà e che saranno quelli che useranno queste infrastrutture? non solo i turisti ma anche le persone che lavorano perché io pendolare? dovrei subire il costo dell'aumento del biglietto elettrante perché poi non c'era una tratta turistica quella quindi dovrà pagare un Leonardo Espress per viaggiare da pendolare magari tra Roma e l'antichina quando io dico ma io quello volevo il tuo costo non mi serviva secondo me sono aspetti che vanno aiutati magari in sostituzione della contina verrà fatta una mega autostrada bellissima con un belaggio trasoterico che qualcuno ha tradito io perché devo pagare proprio la vostra strada ho provato quando intercambi l'aereo in hotel perché devo portare il turista dalla Germania? cioè secondo me non ha proprio senso perché le ripresioni sul territorio sia la piatta acquistica che le emissioni proprio di momento delle emissioni i carburanti dei piedi non sono come i carburanti della macchine sono ancora più inquinanti proprio conosciti di azoto in alta ora che sono i peggiori responsabili dell'infinamento atmosferno ma non solo del bioggiacere a livello di radiazione in cui che arrivano la modifica a livello locale anche della composizione dell'atmosfera comporta un maggiore inquinamento in cui che arriva sul suolo e questo comporta anche la distruzione delle piante quindi questo significa evidentemente anche un dalleggiamento delle culture che si quadrano sul territorio e noi che cosa abbiamo qua intorno? L'unica risulta che ancora abbiamo è l'agricoltura ci bruciamo pure quella e un domani quando magari il traffico turistico ci renderemo conto che sarà stato un bluff ci ritroveremo con un bluff in mano non avremo più quello che ancora l'altro secondo me grazie grazie Michele a Gianmarco se non non ho segnato qualcuno Flavio si lo segniamo ma se ne dopo non ho segnato eh? ah se ne andava a me ci sto chiedendo stavi prima di Gianmarco ti faccio recuperare il suo chito dai recupera forza chiedo a cosa no no non riesco a seguire a guardare no no ma tu sei militare sì sì io ho guardato i liberali forse le conosco va bene ma quello è il problema non è quello il problema dai poi la facciamo un altro passato e poi Gianmarco io faccio qui ma la fatica a pensare a parlare un po' in questo momento noi abbiamo altri problemi credo che in proposta a prendere probabilità innanzitutto ci vorrebbe un piano integrato io ricordo esattamente una intena di farsi quando si dice l'intermodale che era 94 96 o qualcosa del genere esatto io si ricordo che per l'occasione che inizia si parlava dell'aeroporto si parlava della costa si parlava su queste cose ma in realtà poi non servì né come solano di sviluppo cioè non si può mettere il cavo davanti fuori rimaste lì sono state spese all'epoca ricordo 5 miliardi di acqua che vorrei ratunire più oltre 5 miliardi di boniti che erano stati buttati probabilmente servivano 100 milioni di vendita l'anno si insomma l'energia 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 allora io dico se c'erano esigenze io sopporto quello che dice lui si mettono tutti i mister code tutte le IPS quello che imploro il mondo sono tutti quanti confronti questo qui sono tantissimo perché abbiamo però non dobbiamo anche del presente che sono esigenze attuali anche al fondo di una situazione di esigenze attuali noi abbiamo il problema diciamo conosciamo bisogno del problema del trasporto della nativa nella scala con la storia del menù di bugia che stiamo piccando e adesso stiamo apprezzando a farlo di un botto cioè mi sembra per quanto sia molto interessato ha sentito veramente delle cose molto interessanti come dice lui che è veramente a posto zero tanto vale la pena riprovarci così comunque non dipende da noi sia da quello che dice lui che da quello che dice lui non dipende da noi sia da quello che dice della condizione di età perché lì ci sta magari a mettere un terreno di quale uno termina come fu io i cittadini possono incluire quindi è sempre in questo momento che possiamo fare noi che possiamo pensare di fare anche a medio termine sono un po' un po' un po' un po' un po' non abbiamo un collegamento con cose nuove che sia ancora non è completo un pezzetto un pezzetto sono stanno tantissime ma non c'era ci stavano montoni ripeto abbiamo tutta una serie di collegamenti che devono venire in prima e poi c'è il problema è quello del territorio io alcune cose che ho sentito soprattutto anche un pochino meno noi lo facciamo l'ambiente non è l'ambiente che fa l'uomo l'uomo che fa l'ambiente quindi noi abbiamo unificato la mattina abbiamo fatto la sininfa abbiamo visto il territorio in questo modo ci ha piaciuto così ci piace così e non dico ci vogliamo conservare perché non serve a niente ma se vogliamo fare un'evoluzione deve essere una evoluzione che ci piace quindi un'evoluzione che vale una direzione non possiamo ogni una che volta in questo senso cambierebbe completamente una visione e se noi siamo 50 anni 60 anni che cerchiamo di mettere delle radici delle lingue stime di ritorno che parla di un'esempio nostro potrebbe come già cominciare a dare vogliamo di illustrare la popola della zona mazzocchio è stata un'altra tragedia il discorso c'è l'agricoltura il terreno affetto la funzione a pelle ci piace ci stiamo bene ci vediamo bene cerchiamo di farlo funzionare in sicurezza al turismo mettiamo le strade in sicurezza facciamo funzionare i trasporti pubblici come si deve facciamo una marina della tina che funziona e che sia effettivamente curibile tutta la parte della popolazione facciamo una situazione in cui esenziesce anche l'industria o almeno un minimo di industria però è vero che un certo tipo di industria sta andando a morire non è che interessa lavinterzo risolva il problema dei trasporti in questo modo l'industria ci sarà tra dieci anni non sarà l'industria lavinterzo per dieci tra vent'anni non sarà l'industria lavinterzo lavinterzo probabilmente se volga lavorano non so quante persone cento non lo so duecento a vent'anni ci vanno a morire dieci questa è la verità è un problema che ciò non ha sfondiato quindi non risolveremo un problema di occupazione probabilmente lavinterzo non ci potremmo fare niente dovremo risolvere questo problema dal punto di vista politico dal punto di vista integrato tutto sicuramente è bello quello che dice lui cioè è chiaro che quando non c'hai la possibilità della dell'organizzazione della diciamo del confronto della diverso di noi può essere uno sviluppo ma non possiamo basarci su questo qui sotto accolto venissero vedessero ci sono scesso siamo cercheremo per quanto possibile di essere accoglienti cercheremo di dare tutte le possibilità di tutte le facilitazioni tutte le condizioni di modo possibile immaginabili ma non posso pensare io che se facciamo una rata aerea a Francoforte a Latina domani come c'è la prima delle francoforte c'erano qualche far prima creiamo una situazione in cui effettivamente può essere utile perché lo vogliamo noi o perché si crea in maniera armonica da tutto il territorio con un certo tipo di esigenza e poi ci sarà il conto e si risolve grazie grazie di amare allora tralasciando qualsiasi tipo di logica prioristica io parlando in percentuali sono non favorevole al 60% favorevole al 40% però il territorio e la logica di qualsiasi infrastruttura secondo me bisogna andare a vedere fare a prescindere da qualsiasi discorso tecnico un'analisi effettiva di mercato nel senso di dire noi facciamo l'aeroporto ma c'è domanda di gente che vuole venire a Latina punto interrogativo e poi da lì si può ragionare per fare un'offerta relativa per farle venire poi quello gli aspetti tecnici come diceva lui sicuramente e un po' mi sono formato anch'io secondo me fare l'aeroporto a Latina costerebbe pochissimo pochissimo tecnicamente perché è tutta una serie di aspetti che ha elencato lui prima anche altri però questo in una logica attuale da manuale cencelli della politica tradizionale non è un fattore positivo perché quando fu fatta la scelta di Viterbo perché fu scelta Viterbo voi ve lo siete domandato perché lì dovevano fare tutto ex novo ex novo e quindi fare tutta una mole di lavori che era cento volte quelli che dovevano fare la Latina allora questo è il problema poi il problema dell'ente che si andrà a creare che gestisce questi flussi perché il comune della Latina non lo può fare perché ha ancora i debiti fuori bilancio degli anni 80 la regione non ne parliamo con i bici che hanno fatto con la sanità l'unico ente che un po' si salva è la provincia perché purtroppo per noi è una cosa ottusa la provincia non ha mai fatto nessun tipo di investimento e ha come posizione la provincia come sapete tutti è purtroppo suddecentrica no? suddecentrica quindi alla fine il rischio vero politico è di fare la cattedrale del deserto di tutti i stipendifici magari al 90% di quelli del sud pontino e come sono state fatte anche lui che entrava l'SLM l'intermodale ma ce ne stanno altri la Latina è piena di da l'info point il parco a Latina a scato eccetera eccetera è pieno di questi esempi più piccoli poi bisogna anche considerare lui diceva del patrimonio agricolo tutti i terreni agricoli intorno all'aeroporto lì avrebbero diciamo io ho una visione critica sull'agricoltura biologica e biodinamica però comunque uno deve essere anche libero di farlo o no l'aeroporto come una discarica crea queste preclusioni a ottenere la certificazione quindi le aziende entro in un determinato raggio che tecnicamente non so dall'aeroporto le aziende agricole sarebbero penalizzate e soprattutto per fare l'aeroporto ci vuole una una logica di sistema sistemica nel senso di capire se il territorio primo ne ha bisogno e secondo deve essere tutta una logica per evitare le calterrate di sistema una logica di sistema di creare la strada le strade tutte le infrastrutture perché per esempio si potrebbe anche parlare della nuova stazione della nuova stazione visto che la stazione attuale è vecchia facciamoci un museo della vecchia stazione ne facciamo una nuova bellissima e facciamo come fanno in Spagna su Madrid che le città a 50 km dalla capitale sono collegate con una metropolitana con un treno che passano 10 minuti allora lì poi possiamo ragionare veramente bene però se non ci sanno tutte queste cose di contorno e la popolazione veramente la vuole è inutile parlare grazie me l'ho segnato io non dal moderatore quindi adesso smetto di essere moderato no innanzitutto quello che dicevi tu lo spazio deve essere di discussione di metodo non politico sono d'accordo con te però invito a riflettere su questo qui sono quasi tutti i raffreddati del momento c'è guarda quanto opinioni differenti hai dovuto avere perché non viene dettata la linea dall'altro ma sono loro stessi noi stessi che ci facciamo carico di crearcela e questo attualmente il panorama politico è un'eccezione non può andare da nessuna altra parte probabilmente stavo in futuro ma penso che questo ne converrai questo perché non è un momento politico ma sicuramente un po' post ideologico quindi come dice la forte o capitale di sentire al stesso tavolo una critica all'ambientalismo radicale e un po' più oristico e poi una critica all'antropocentrismo dall'altra parte bene ci sono presenti tutte poi c'è Francesco che ha un'altra visione a cuore poi c'è Marco che ha posizioni di riga sul biodinamico adesso andranno no insomma sono rappresentati davvero tante forse il punto di partenza è proprio nel metodo e nel metodo poi escono fuori le singole opinioni e poi secondo me quando c'è libero confronto l'opinione migliore un po' si impone si dovrebbe impone sperando che si imponga io dico una cosa forse la tua visione non è antropocentrica tutto sommato io direi che è utilitaristica un po' comunicistica nel senso che il tuo è dato grande risalto all'indotto a creare questa però c'è qualcosa che chiaramente fa rendere la nostra vita vita non solo il ricavo economico c'è anche uno star bene forse il più importante il benessere individuale collettivo che non quanti soldi abbiamo in tasca eccetera e questo forse si inserisce in quello che diceva già Marco ancora di più e lo vedo attenzione che questi sono sistemi complessi cioè sono se non vediamo tutto in un'ottica di sistema non riusciamo se affrontiamo solamente dall'ottica ambientale o dall'ottica del ricavo economico noi non riusciamo a riscopere questi problemi perché lì con la TAB non riescono a venire a capo in questo modo se non si ha veramente l'apertura di capire che non sono problemi facilmente risolvibili perché ci sono esigenze e persone che portano degli interessi molto differenti anche della mia visione no probabilmente è differente dalla tua è differente dalla quella di Tommato però dobbiamo tenere conto di tutti se vogliamo vivere bene io devo rispettare l'opinione sono e cresco perché io prima ho detto un vero prima delle cose di cui non ero conoscenze sinceramente mi fanno un attimo pensare perché se io devo pensare che l'impatto ambientale è forte o è debole questo va visto chiaramente oggettivamente perché se io non ho questo impatto ambientale io cade alcune posizioni cadono altri personali non sto dicendo a nessuno che non ha senso perché bisogna vedere che la persona che ha più una sensibilità paesaggistica più forte e qui è chiaro quello che dice Francesco che il paesaggio non è il paesaggio è la natura selvaggia e lo ha significato il massimo esempio di quello che ha potuto creare un proprio trasformato però bisogna vedere come la trasformiamo con quale consapevolezza gli edifici che hanno creato la latina è un esempio proprio di degrano totale dell'umanità e cavolo quello è un tropocentrismo puro ma negativo perché ha distrutto tutto gli edifici i poderi come erano stati creati non sono esempi di integrali del tipo per esempio e sono stati creati sempre di nuovo cambiando devolmente l'ambiente che c'era prima il paesaggio che c'era prima che aveva creato un altro tipo di situazione quindi quello che dico io sostanzialmente estendiamo questo dibattito che sono non sull'aeroporto in generale su queste situazioni perché l'impianto stradale è quello secondo me il vero problema di queste zone qui che abbiamo queste migliare queste strade incredibili che ora passano non dico per quale notavo che dove c'è la grossa azienda è sfaltato tutto quanto ci sono degli interessi che poi vanno a incidere pesantemente nel nostro territorio ora voglio dire ma io sono modificato nella faccenda delle commuzioni direttamente ma poi secondo me è una mentalità cioè noi non andiamo in nessuna parte pensando che siamo quasi un provinciano perché io sono sicuramente sono stato a Londra e mi torno molto provinciale perché mi fanno ridere tutte le cose snob che fanno loro perché l'ho superato il tempo che non faccio più quelle cazzate scusate interne che lo disse fare a Roma che vogliono sentirsi europei che fanno le cose che fanno l'Inghilterra l'ottica ho citato la globalizzazione quella è superata l'ottica che è già da tempo è quella della localizzazione cioè se noi non teniamo conto anche delle esigenze locali e poniamo il villaggio globale in un'ottica di omogeneizzazione noi tutti non sappiamo davvero più chi siamo perché se noi non sappiamo le persone più provinciali scusate sono quelle che vi parlano di ciò che accade a Londra e poi dicono qui e non sanno dietro casa come si fa arrivare a quella strada lì se non sono del navigatore cioè scusate hai ragione è chiaro che è importantissimo l'ottica della connessione culturale ma prima dobbiamo sapere come chi siamo c'è un libro stupendo le radici del futuro di Orte e Varina ma quello è il problema cioè senza le radici dove andiamo che futuro stiamo creando e questo per il resto sono d'accordo al 100% con il suo entro raccogliamo tutte le informazioni raccogliamo però anche visioni anche idee di un mondo differente da quello perché se io mi devo accodare l'idea che c'ho l'aeroporto e c'ho un po' più di indotto però la vita mi peggiora io sono a favore di levarlo l'aeroporto se invece qualcuno mi dimostra che chiaramente sto meglio sono disposto un po' a scommetterci però a stare meglio non a guadagnare qualche lira in più perché poi l'aeroporto sappiamo che devono anche spartire secondo quella logica vecchia del turismo di massa che è un turismo predatorio perché probabilmente ti costruisce due o tre alberi ci guadagnano solo quelli e il resto della comunità non ha nessun vantaggio se non questi flussi che vanno tutti nelle stesse città tutti nel stesse tutto al mare nello stesso punto e non porta veramente a sparmare nella comunità un benessere a tutti e per tutti non dico a tutti ma a gran parte solamente questo però condivido nell'ottica quindi spero che sia trovato bene oppure essendo magari ignoranza nella tua posizione posso dire l'ultima cosa che è vero che noi ah c'era qualcuno che doveva dire sì c'era io ho segnato io ho segnato Cristian Flavio e poi di nuovo voleva parlare con Marco volevo fare una precisazione che è vero che ognuno di noi la pensa con la sua sfumatura però è vero anche che il Movimento 5 Stelle di cui noi siamo piccoli portavoce sul territorio ognuno per sé e tutti insieme nel Milano di Latina noi abbiamo cioè come pietra miliare il rispetto dell'ambiente prima di tutto perché sì ci può essere chi va vedere in un modo chi nell'altro però quello è un caposaldo e non si tocca cioè da lì si parte non se l'idea funziona o meno porta qualche tipo di vantaggio perché come diceva Giorgio noi già in quella stessa zona avremo dei problemi per centrali a più masse quindi deve essere un pensiero integrato e non un pensiero isolato all'aeroporto se è una buona idea o meno al di là del turismo cioè pensiamo prima di tutto all'ambiente e poi tutto il resto quindi con le nostre sfumature noi cioè siamo invitati di Latina e abbiamo aderito al Movimento 5 Stelle di cui l'ambiente è uno dei punti cardini no no inizia di nuova che mi esprimiamo siccome già ho parlato ti devi dare un spazio a un flaco sì 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 no io semplicemente un paio di parole sostanzialmente sono d'accordo con Alessandran e con molti il tavolo in questo caso qualsiasi tavolo in particolare quello che poi abbiamo portato avanti quello del turismo è stato sempre un tavolo in cui si sono messi sul piatto della bilancia tutti gli aspetti che possono incidere per il nostro sia nella parte dell'ambiente sia nella parte del territorio del lavoro senza avere preclusioni a priori certo con un occhio molto attento all'ambiente e al territorio perché questo è il nostro diciamo la nostra salvaguardia però questo non ci percute da prendere e approfondire tematiche come ha portato avanti Fabio o come ha portato avanti Umberto perciò io la mia proposta è quella di continuare a approfondire questo studio per cercare di renderci conto in modo più dettagliato di quali potrebbero essere gli aspetti positivi e negativi senza entrare nel merito della situazione ovviamente il Movimento 5 Stelle poi a differenza di altre realtà politiche ha nel DNA un aspetto importante che pensa al cittadino pensa al territorio in primis non ha interessi specifici di parte o economici o lobbistici perciò diciamo questo è già una garanzia secondo me di un buon approccio sul tavolo che potrebbe diciamo nascere questa è semplicemente ecco una richiesta di proseguire con questo lavoro e non chiuderlo in questo contesto tutto ok prego io innanzitutto sei l'ultimo e mezz'ora di mezzo per parlare la prima l'ultima cosa per ringraziare che è intervenuto per rispondere a tutto quello che abbiamo detto l'importante è parlare e questa è una grandissima cosa perché se ne parla poi fra persone anche di diverse realtà e comunque viene fuori come diceva qualcuno una certa verità dietro a cui nessuno si può nascondere perché c'è sempre qualcuno che si vuole nascondere dietro allora questi sono piani purtroppo un aeroporto io ci lavoro chi è meglio ti guarda caso e guarda caso la voca Ciampino quello di dire la voca Ciampino chiude mi sembra una notizia un po' buttata con un sasso e uno stagno però tutto può essere nella vita cioè che facciano la tira che chiudono Ciampino mi sembra un po' a naso mi sembra un po' mi sembra un po' a rischio però visto che Ciampino ci altera il bar non so se conoscete il bar però può darsi anche non è non è detto voglio dire però vabbè solo vogliamo solo vogliamo però se sentenze non si cosa non è discuta esatto allora intanto allora mi rifaccio al discorso che ricordate a parlare e vi invito chi avrà notizie ulteriori in questo merito in questo caso dall'aeroporto a ricontattarci e a riparlarla perché è stato notevole parlare è stato notevole ascoltarvi tutti quanti Giorgio ho già avuto un po' di riconoscerlo e mi sembra anche Fabio ci siamo già visti qualche volta una volta solo in una riunione grazie al presidente della fondazione Caetane che ci ha detto cose interessanti entro un attimo nel metto ma grosso modo non c'ho molto da dire perché non c'ho molto da dire perché è stato detto questo è tutto quello che volevo dire in sostanza riassumo posso riassumere la serata dicendo che facendo un aeroporto c'è un aeroporto può essere una cattedrale nel deserto come ha detto lui perché in questo caso sarebbe un fallimento totale e in Italia io ci ho parecchio negli aeroporti perché ci lavoro per lavoro ce ne sono tanti vi posso dire la mezza termica che lavoro sull'estate ad esempio che è stato ci sono alcuni aeroporti che sono stati costruiti per uno scopo specifico che nessuno sa e tutti sanno soprattutto quelli del sud perciò ecco io però l'intervento di Fabio non l'ho assolutamente anzi complimenti per l'intervento molto preciso e molto dettagliato tra l'altro io ho un figlio di vent'anni che sta facendo il tuo corso di studi ciò capisco la problematica che tu hai portato al tavolo è molto io la sento molto la sento molto però questa cosa deve essere facente parte secondo me di un integrante di un piano politico un po' più all'arco spettro cose che sono state già dette un piano industriale o post-industriale perché forse l'industriale è già andato un piano turistico è un piano soprattutto sulle infrastrutture io faccio un esempio stupidissimo quando fanno un centro commerciale ne abbiamo visti tanti prima fanno le strade e poi fanno il centro commerciale cioè senza andare a fare degli esempi chissà come o fare dei grafici senza essere ingegneri o che cosa non è che ci vuole tanto capirlo di solito in Italia facciamo il contrario anche quando compriamo una casa la compriamo e aspettiamo in dieci anni che ci fanno l'asfalto sotto casa no? succede penso che soprattutto la nostra realtà rispetto alla realtà di Bergamo per risponderti perché io sono nato lì da quelle parti lì e sono noto qua ho girato parecchio l'Italia conosco le varie differenze cioè gli aeroporti che nascono a Francoforte nascono a Parigi non è per contraddirti è un aeroporto che nasce qui non ha la stessa potenzialità di sviluppo secondo me anche dal punto di vista sociale ha più secondo me ha più percentuali di far danno che di far bene però non sono non per questo sono chiuso al discorso assolutamente l'attivismo hai parlato di attivismo anticorruzione che sarebbe farlo molto in Italia secondo me più che all'estero sono d'accordo con te facciamolo in Italia perché la corruzione è il più grande tanno che c'è in Italia perché queste alle volte queste cose vengono fatte sono vie non sono le soluzioni ma sono le vie lo sappiamo benissimo speriamo che sia la soluzione sulle tante delle aeroporti ti posso rispondere invece lavoro una tariffa di handling è una tariffa di handling che sia cioè la società che fa l'handling a un aereo che sia lo costo o meno la tariffa è in base al tipo di aereo eccetera eccetera per entrare nel merito che tu specificavi prima non per fare ecco qua dovrebbe capire soprattutto le intenzioni politiche di chi propone questo dico una cosa banalissima lo so però non ha detto nessuno ecco l'intenzione politica per vedere se c'è un discorso ad ampio spettro o c'è un discorso dei soliti italiani insomma dei soliti discorsi che facciamo di solito insomma diciamo poi se andiamo a vedere il turismo che abbiamo a Latina andiamo a Sapare andiamo a San Felice chi sono i turisti che vengono a Latina i romani i romani non hanno bisogno di prendere l'aereo per prendere la Latina non lo prenderanno sicuramente non è che vanno a Cientino e prenderanno l'aereo per prendere la Latina assolutamente no perciò la pontina è una realtà da risolvere molto prima dall'aeroporto per cortesia e vogliono tutta la politica di questo paese quindi io l'ho fatta per dieci anni la pontina con la macchina so che ha questo voglio dire in modo l'interfetto di la mia chiamata Fondazione Caetani io diciamo che come Fondazione Caetani devo dire solo una cosa che Niva lo scorso anno ha fatto poco più di 60.000 presenze in 30 giorni 32 giorni di apertura e è il limite quindi se qualcuno si sta preoccupando per portare altre persone anni fa non ci possono entrare perché nei giorni più forti ci sono 3.500 persone e siccome entrano 30-40 persone a porta a un intervallo di 10 minuti se fate i conti tutti quelli non possono entrare siccome salvo maggio apre un sabato e domenico e ogni mese le entrate sono quelle una media di 2.000 2.500 persone al giorno o 30 quindi come dire se qualcuno volesse giustificare qualsiasi infrastruttura col fatto che devono venire più persone a Niva non siamo disponibili ma in realtà non servono proprio mentre invece noi siamo costretti ad ampliare il parcheggio perché non c'è nessun mezzo pubblico che porta la gente a Niva comunque il sindaco di Cisterna ha messo un pullman per venire dalla stazione fortunatamente ma è ancora limitata pochissima la gente quindi quello sarebbe un discorso di non portare in più detto questo mi tolgo la giacca da vicepresidenta della condizione perché poi io nella vita sono una persona che si occupa di pianificazione e credo voglio dire solo questo il discorso sarebbe interessante soprattutto il discorso che ha fatto lui con riferimento ai giovani all'internazionalizzazione è una cosa di ammendere con il discorso molto più voglio solo portare un elemento critico in questa realtà dico le stesse cose che ho detto a un convegno di confindustria qualche giorno fa noi paghiamo il ragionamento di vivere in una realtà assistiva cioè noi viviamo in una realtà in cui nessuno si è mai inventato niente perché il primo sviluppo è stato dato da una bonifica e dalla costruzione di città e il secondo è stato dato dalla casa del mezzogiorno cioè qui non si è creato mai sviluppo sulla base di un'inventiva di un'invenzione di una costruzione di qualche cosa a missione e questo lascia nella capoccia di tutti o di quasi tutti il mito dell'elemento che crea il sviluppo a me come pianificatore mi hanno insegnato che è vero che le infrastrutture servono al modello di sviluppo che uno si dà e si scelgono sulla base del modello di sviluppo che uno si dà non è vero che una infrastruttura porta lo sviluppo non esiste è una cosa come dire che in teoria nella teoria urbanistica è una cosa che non ha senso una strada si fa più larga o più stretta in funzione di quante macchine ci devono passare per sapere dove devono andare quindi questo discorso che è di per sé lo considero uso una parola sbagliata prendi la pubblicità lo considero quasi banale dire se uno prende un prato ci fa un aeroporto ci vengono 3 milioni di persone perché Roma è intasato va bene ma questa è la stessa logica con la quale quei inizi della Corte in Farma che vogliono fare il ceneritore hanno detto siccome la Pristola si è andata la Corte in Farma non può produrre niente se non volete far licenziare le persone bisogna bruciare i rifiuti è la logica cioè la logica dell'infrastruttura che porta occupazione di per sé e che si deve fare per l'occupazione è una logica che ha portato a una zona voi avete fatto l'esempio dell'intermodale ma c'è un altro esempio no no a parte i piccoli uno grande come una casa e se lo si surte col polo fioristico cioè chi ha pensato di fare un polo fioristico io l'ho visto i molti ma sta fallendo fiera di Roma perché poi tutto il discorso sulle fiere è arrivato proprio in crisi come l'inzee come l'esempio allora perché questo da dove nasce il finismo nasce da questa mentalità che è l'infrastruttura che porta allo sviluppo e non che in base allo sviluppo bisogna decidere qual è l'infrastruttura che è l'infrastruttura perché l'infrastruttura Umberto vuole di farla negli osa tu sì un paio di cosette che ci sottolineiamo anche se mi bicchieranno se va a casa ma nemmeno lo stesso dunque per quanto fa il discorso ho fatto io, non è che sia un discorso favorevole a fare l'aeroporto civile di Latina, io quello dicevo è questo, un sito già esiste, non devi stravolgere niente, questo è poco chiaro. Altro fatto è che io sono una persona che, con questo che ho parlato con Alessandranna, è favorevole addirittura che questo aeroporto, che non ha adesso ragione di esistere, perché è fermo, venga del tutto trasferito e chiuso, questa è la mia idea, sia ben chiaro, forse anche quella normale, da qualcun altro, proprio perché nell'ambito della rispettazione economica, cioè delle spese in modo di domenicazione come paese, non ci possiamo permettere una struttura con un X di persone all'interno che sono fermi, ormai sappiamo che i tagli che abbiamo dati a livello centrale, non solo i feri dell'aeroporto Latina, parliamo in generale, fanno sì che venga ridotta la forza armata e tutte le forze armate nel loro insieme. Quindi avere un ente che di persino fuci più quello che era prima, cioè gli eri piloti, che non servono più, perché tu era prima e non li compri più, il famoso F-35, non si comprerà, punto, come si sanno le cose. E quindi non ha più ragione di essere, anche perché, come parlato con Alessandro, facendo un altro punto di relazione, è ben conosciuto, abbiamo dei denti aeroportuali più vicini alla scuola di Puzzuoli che possono benissimo ospitare gli allievi che verrebbero che vengono alla Tiena, Grazianese, che è un aeroporto che è simile alla Tiena, nel senso che ha pochissima Tiena di volo ed è in una situazione tra più volte e più favorevole perché è in aperta campagna, quindi non va a inficiare quello che potrebbe essere il problema con la Tiena Scala. Fatto diverso è dire che l'aeroporto giugnale di una sera sono costruita dopo e chi ha fatto, ha fatto così, in cui non ha sbagliato, punto, perché io dove c'è un aeroporto non posso far mettere i palazzi, chi ha fatto prima ha nettamente sbagliato, ci siamo. Però, torno al punto di partenza, per quanto mi riguarda come cittadino, facciamo a queste mesi che faccio, mi rendo conto che quell'aeroporto attualmente è più danno che fermo, non ha ragione d'essere, punto. Comunque ci sarebbero tante altre cose per le quali possiamo risparmiare, quello è un ambito per il quale attualmente noi siamo spendendo i soldi per niente. Tengo a pensare che l'aeroporto di Tiena sta a dire da 50, 60 anni, 70 anni, anche bene mi ricordo, ha sempre fatto scuola di volo, ha sempre fatto attività di volo, quindi c'è stato sempre un inquinamento, prima peggio di quello che adesso, perché poi una volta consumavano, era un rumore maggiore di quello attuale, e quindi se facciamo un discorso ovviamente ambientalista, sarebbe richiuto immediatamente, non ci serve più, quell'inquinamento che poteva portare e ha portato, ormai è finito, finiamola lì. Non so se avete idea. Quindi io sono favorevole a un discorso, se si deve fare, visto che il sito già c'è, non è del tutto male perché andiamo a favorire l'industria che se ne va, perché non può portare il materiale, perché la pontia non funziona, perché tra io non c'è stato, come ci faranno noi. E pur vero che se noi però continuiamo a chiuderci ancora di più, probabilmente la strada ce la fa mai nessuno, neanche la stazione di nessuno, perché non c'è nessun motivo per cui debba essere di fatto, ci arrangiamo. Non so se avete idea, ho fatto una sintesi un po' brutta, però forse penso di essermi fatto capire, insomma, questo è il discorso. Sì, sì, grazie. Bene, se non c'è nessun altro che dicessimo, possiamo chiudere, posso... Sì, c'è, ah già che hai parlato. Vabbè, io sono nuovo, prevenso che sono... Giulio. Non è che tutti i voi vi facciamo parlare di tutti i mangi? No, 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 non sono l'ansia, tutti i voi. Cercare di fare un'idea, piccato. Allora, io sono piaciuto al proprio Montello, dove c'è la discarica famosa. Quello che ho paura di aver capito un po' dal nostro intervento è che ci sia quello che è un po' un timore di qualsiasi tipo di infrastruttura nuova sul territorio che possa ricordare l'errore di centrale nucleare di scarica del volo Montello, ovvero due mostri che hanno devastato il territorio a livello ecologico, no? Quindi qualsiasi cosa nuova, che possa essere come l'idoglio tirrenico, l'aeroporto, la marina... Sì, ma l'impatto ambientale... Eh, ma l'impatto ambientale c'è tutto. La stessa bonifica integrale è stata, prende il territorio e stravolgerlo come infrastrutture, quindi c'è l'impatto ambientale che è già stato. Nel mare ha creato un prodotto, una comunità agricola, si voleva all'epoca, che poi diventa industriale, perché cassa del mezzogiorno, la cittadinanza sera moltiplicata di smisura, adesso non ci facciamo tutta questa gente, non cambiamo quella agricoltura, quella vita. C'è la maggior parte della gente che prende il tre con la mattina, con la macchina, e vai a Roma. Oppure prende l'aeroporto a Milano, oppure a qualche altra parte, e la maggior parte della comunazione non campa qui a Latina, cerca qualcosa fuori e ritorna qua a dormire. Allora diventiamo un dormitorio. Allora facciamoci una bella autostrada, 8 corsie prenderanno ogni mattina. Oppure cerchiamo di sviluppare il territorio, ma il territorio non lo sviluppiamo diventando il villaggio degli Amish, ovvero noi ci chiudiamo, noi siamo autarchici, facciamo le cose da noi. Perché non funziona? Cioè non regge, siamo tanti. Siamo tanti e la gente continua ad arrivare, anche stranieri, anche persone comunque dal resto di Italia, perché Latina è la metà tra Napoli e Roma, quindi è comoda. Però il problema è che la gente viene, lavora fuori e qua c'è in a dormire. Il weekend si fa, la passeggia da mare e basta. Le poche iniziative economiche che ci sono possibilismo, da quello che vedo, sono a costo zero, la gente vuole prendere il massimo facendo un chiasco armare. E poi si lamenta se c'è parfometro per le macchine. Cioè, o veramente decidiamo a livello di popolazione di investirci in un territorio, ma anche di metterci i soldini personalmente di rischiare a livello territoriale, oppure c'è, facciamo poco, perché si è bello, c'è un anziano, perché la valle dei cianchi qui ci viene. O facciamo un lavoro di macchine in un bestiale, ma di loro macchine invece deve essere anche un prodotto, che è cercati qua che ci sta chi qui. Quindi, cioè, abbiamo tanto, dobbiamo metterci tanto e non dobbiamo avere paura di quello che può essere un cambiamento. Il cambiamento deve essere pensato bene. Ovviamente con tutti i tipi di misurazione che possiamo fare, ma non ci sono modelli previsionali chissà così precisi per dire sì, l'aeroporto porta tanti soldi, porta un vantaggio bestiale o no. L'aeroporto potrebbe essere la possibilità di sicuro così non andiamo, perché arrivati a Latina vuole il collegamento di il resto d'Italia, perché poi diventa la flacca da Terracina in giù e chi ci va. Quindi c'è, Latina potrebbe essere un paradiso perché Carnavoli è Roma. Quindi c'è, io ho degli colleghi, il suo centro pubblicato abbia un master a Milano, un internazionale, ho tanti colleghi di stranieri adesso a Roma. Io dico, venite a romare a Latina, che c'è da fare? Ah, Fergene. Dovranno a Fergene, perché Fergene prendono il treno e portano lì. Perché? Perché probabilmente la vita è difficile da essere raggiunta e… Il trenino, no? Il trenino, ma il trenino è dove ci porta? Ci porta in scala, allora il problema diventa la bottina, il problema diventa in generale la logistica. del trenino. Allora sono d'accordo con te, puntiamo sulla ferronia, ma puntiamo sull'infrastruttura e l'infrastruttura ha un impatto… A bassa tratta ambientale. A bassa tratta ambientale non esiste. Esiste l'impatto ambientale. Cioè, che facciamo? C'è un impatto ambientale. La ferronia è una buona… Adesso, adesso… Però, il trenino, giusto per tutte le le idee… Mi ricordo, il trenino è il nome Giulio, Giulio… Giulio, Giulio. Con mettere… No, no, Giulio, Albus. Adesso è un invito, se non si può fare per un'anima, per un'anima, per un'anima, per un'anima, per un'anima, per un'anima. Eh, se no, faccio un'anima, dal seminario, mi faccio un'anima, per un'anima, per un'anima, per un'anima. E penso che, inizia a me, sono le ore c'è 30, sono qui, ha fatto due rettenze a qualche registrazione, che non sanno passare, fino oggi. E poi, io, io, ho un turismo, pensavo che sia una forma di sviluppo… Sì. Perché, bene, è stato detto. Noi abbiamo un petrolo sotto, ma se non creiamo che condizione, che, a nostro avviso, è quello che ha il minore impattabilità rispetto all'industria… Io so, l'industria… Io so, l'industria… Ma, sono, 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 l'industria… Cioè, la scelta deve essere abbastanza drastica. O l'industria, allora deve essere l'infrastruttura. O il turismo… Ma, il turismo non deve essere… Cioè, dire il turismo, lo strano, non ce la fai. Non cambi con il turismo del… Il mio mese unico di casa viene… A provire da me e… A portare con me… E a portare con me… E a portare con me… E a tavolo… A sbagliare a mettere queste conpegasse… No, no, no… Non è quello… Ci devi contare la gente da fuori… Ma, perché… Ma, perché… Ma, perché… Ma, perché… Ma… Cioè… Cioè… Paolo, Giulia, vi invito a partecipare proprio che si occupa di valorizzazione del territorio. E' esattamente la risposta a quello che dici tu. Cioè, se noi vogliamo creare gente che ogni giorno parte da qua e se ne fa da un'altra parte per l'altra, dobbiamo valorizzare il territorio. E' proprio questa l'ottica anche in cui vediamo il turismo. Cioè, ce l'abbiamo… E noi in vicino non ci abbiamo un pianti. Non abbiamo un pianti, abbiamo tante altre cose. Ti assicuro che quando vengono da tutte le parti qua e lo riporto a vedere… Solo che ne so… Pensano a stare sopra l'antica norma. Cioè, c'è gente che viene da sopra… E rimane così… La voce a vedere sta roba? Se non è… E vedono tre… E vedono tre persone che vanno a giocare… Cioè, voglio che assicuro che noi il territorio… Però dobbiamo un leggo valorizzato. Posso pensare di fare due alberghetti, un campeggio che andrà a quel mare, che francamente è il passato. Scusami, ma… Ma qui che è bello il mare? Allora, dobbiamo andare a richieste lunga… Come stanno facendo? Perché lì è più bello? No, noi abbiamo altre cose. Attualmente il mare non ce l'abbiamo messo. Ma c'è la volontà… Certo che c'è la volontà… Io vedo tanti imprenditori… Certo… Devo fare il loro mestiere… Devono fare il mestiere anche loro… Vanno dedicare ai giovani… Abbiamo scelto un po' dalla… Cioè, poi in tavola… Vichiamo e poi parliamo… Io a partecipare ancora… Io spero che tutti abbiano potuto dire… No, beh… Ci sono due tanti di valorizzazione del territorio… E turistiche sono la stessa cosa… Mobilità in ambiente… Mobilità in ambiente… Mobilità in ambiente… Insomma… Cioè, diciamo, sono tematiche che si vogliamo portare avanti… Ora… Ci sono spiegare un piano turistico locale… Perché da che si va… E come diceva… Inoltre, l'Arioporto, non ha senso… Certo… E senza quello l'Arioporto non ha senso… Se non si ripensa a tutto… Ma… Non ha proprio senso come diceva… Cioè… Oggi parlare… Non asfaltano la bottina… Ma… 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 Proprio non le bughe la bottina… Ma che stanno… Ma che stanno parlando… Scusate… Saluto tutti… Come si fa… Come si fa… Grazie… Grazie…